Siamo, siamo ai quarti di finale di Youth League ragazzi, per la prima volta nella nostra storia siamo ai quarti di finale di Youth League o superiamo per la prima volta nella nostra storia un turno di eliminazione diretta di Youth League Mamma mia che partita però, che bella partita che è stata, che bella partita veramente Partita combattuta e bisogna dirlo molto maschia Maschia non solo nel senso del gioco ma anche proprio atletismo, cioè tanto atletismo, tanto agonismo Veramente una bella partita, poche occasioni da gol ma non poche occasioni da gol perché Come si dice perché le due squadre hanno giocato male, ma perché le due squadre hanno giocato molto bene Cioè quindi anche difensivamente c'è stata molta attenzione Sono sincero, non me lo aspettavo, io quando ho saputo che la Juve avrebbe rinunciato Avrebbe rinunciato perlomeno, quando ho saputo che la prima squadra stava portando sull'Emiretti a Firenze Ero un po', anzi diciamolo apertamente, ero molto contrario Ero convinto che la Juve prima squadra potesse farne a meno per questa partita di questi giocatori Ma che la primavera no, insomma perché sono giocatori veramente importanti Detto questo, i ragazzi mi hanno smentito, mi hanno smentito facendo una grandissima partita E andando a giocare in casa dei campioni d'Olanda della Zetacmar Campioni d'Olanda ovviamente, campioni d'Olanda del campionato primavera, loro, insomma Della loro Under-12, perché nell'Under-19, scusate perché ricordiamo che la Zetacmar ha fatto il percorso completamente diverso Da quello della Juve, la Juve si è qualificata a questa Youth League da il discorso gironi di Champions League Quindi il percorso Champions, mentre la Zetacmar ha fatto il percorso dei campioni nazionali E quindi niente, quindi ci siamo trovati in questa partita a giocare a casa loro E non è facile perché a casa loro, insomma, nei tempi olandesi diciamo Io lo direi, nel settore giovanile gli olandesi sono sempre stati avanti, tantissimo Cioè, l'Ajax di Cruyff, l'Ajax ha fatto la fortuna con i giovani Quindi proprio l'Olanda in generale ha sempre avuto una grande tradizione di giovani E a gioia se l'è giocata, perché comunque al primo tempo ha avuto due palle gol Tutte e due con healing, la prima di testa, la seconda di controbalzo Che potevano portarci in vantaggio a fine primo tempo Loro hanno avuto un bel diagonale di De Jong Finale di tempo, ma poi nel secondo tempo loro Oggettivamente hanno fatto vedere qualcosina di più di noi Noi abbiamo avuto solo una spizzata Proprio, non ho visto di chi era Neanche, non si è neanche capito bene di chi era Perché con le immagini di UEFA TV lo lasciamo perdere E ma senza, ma proprio una cosa leggerissima Mentre loro hanno avuto l'occasione più nitida Con una parata prodigiosa di Senko E lì è stata veramente, lì l'avevo vista proprio brutta Tra l'altro all'ottantesimo è stato espulso Omic Che è entrato malissimo in partita, bisogna dire Ho fatto due falli sciocchi Soprattutto, a mio modo di vedere, il secondo Ma anche il primo, non scherzava E quindi ci siamo trovati colomo in meno E ci siamo trovati i calci di rigore Non c'erano supplementari in questo turno Non ci saranno neanche il prossimo E quindi ci siamo trovati in questi calci di rigore A casa loro, sotto la loro gradinata Dove c'era anche lo striscione, giocate per lo stemma E quindi loro sentivano tantissimo questo evento Perché è un po' come l'Empoli C'è loro una squadra che La prima squadra non sta più partecipando alla Champions da tanto Quindi il settore giovanile che vince il campionato Un campionato così difficile come quello olandese Il pubblico era lì, era tutto pieno Quindi è stata una bella partita Rigori perfetti, tranne l'ultimo loro Perché poi comunque anche loro hanno tirato un rigore migliore dell'altro Veramente tutti bravi rigoristi Permettetemi, strido anche un cenno in particolare su questo ragazzo Che viene dall'Olanda Abbiamo preso l'anno scorso per l'Under 17 Che quest'anno sta portandosi tantissimo Stà facendo tanto notare con la primavera Perché sta prendendo tantissimo spazio Ecco, io concedetemelo Perché questo è un ragazzo molto giovane Che alla prima secca Prima partita scontro diretto Si trova a tirare i calci di rigore In Olanda Sotto lo spicchio dei tifosi di casa Alla prima occasione L'ultimo rigore, quello più pesante Quello che sai che se segna è finita E lo segna Diciamo che è stato Ho urlato anche in maniera liberatoria Perché oltre a aver passato questo turno Diciamo che questo va anche a paio Della sconfitta contro la Roma I quarti di finale di Coppa Italia I calci di rigore Quindi insomma Per perderle un'altra calci di rigore Sarebbe stata veramente una beffa troce Per questi ragazzi Uscire da due competizioni i calci di rigore E adesso vedremo che affrontiamo Intanto la Juve Per la prima volta Nella storia della sua storia E i quarti di finale di Youth League Adesso non so le altre italiane che cosa hanno fatto Sono sicuro che qualche altra italiana Ha fatto molto Ha fatto meglio Ma mi devo documentare Perché a memoria mi ricordo la Roma Fece una buonissima Youth League 5-6 anni fa Però quest'anno Siamo l'unica squadra Ai quarti di finale di Youth League Siamo l'unica squadra Ai quarti di finale Di UEFA Women's Champions League Aspettiamo la prima squadra Per completare il filotto Delle tre squadre Tra le migliori otto Sarebbe veramente qualcosa di epico Che nel calcio italiano Nessuno ha mai fatto Nello stesso anno E questo lo possiamo dire Senza assolutamente Nessun problema Fino alla fine Forza Juventus Primavera Siamo ai quarti di finale Grandissimi ragazzi Siamo ai quarti